Pio Pio! Pio Pio! Gol! Diego Nero è vincente di Piontek! Ed è gol! Ed è gol! Ed è gol! Pio 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 Pio! Ed è gol! Ed è gol! Ed è gol! Ed è gol! Spettacolo San Siro! Piontek! Piontek! Ed è gol! Pio Pio! Gol! 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 E questa è l'esultanza di Tiziano non a caso lo avevamo evocato tra poco torniamo dal nostro prof che abbiamo interrotto ma chiaramente la cronaca come sempre ha la priorità soprattutto quando succedono queste cose. Allora primo gol per quanto riguarda il Milan Piontek! Piontek! Piontek dalla sinistra si accentra prova il tiro! Gol! 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 Convergenza in centro! E' altro tiro in diagonale! Pio Pio! Pio Pio! Pio Pio! Ed è due! Ed è due! Ed è due! Ed è gol! Ed è finita! Ed è finita! Ed è finita! Ed è finita! Pio Pio! Il pistolero! Il pistolero! Il pistolero! Io c'ho la pistola e voi ce l'avete! Io ho il pistolero! Tu ce l'hai il pistolero! Io ce l'ho! E allora! E andiamo! Siamo in semifinale! Adesso aspettiamo Lazio e Inter vediamo cosa succede! Vediamo cosa succede con l'Inter dice Tiziano però questo è il risultato eh! Undicesimo e ventisettesimo! Grandissimi gol del pistolero! Piontek! Pio Pio! Curiosità statistica il Napoli ha fatto nel giro di...